Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di PlayStation Doom. Siamo arrivati alla mappa che credo dovrebbe essere Anoli Cathedral. Speriamo. Ok, andiamo. Sì, credo sia Anoli Cathedral. Ok, qua hanno chiuso la zona. E non era chiusa. Ah, queste sono porte, allora non l'hanno chiusa. Ok, errore mio. Il nostro scopo è trovare la chiave blu in questa zona, perché credo sia quella la porta che ci farà andare via da qui. Certo è che sono un pochino a corto di colpi. Me ne sto accorgendo adesso. Ogni mappa che passa è sempre peggio. Vabbè. Non preoccupiamoci adesso per quello che dobbiamo far dopo. Allora. Anche questa apre qua. E l'altra dovrebbe aprire qui. E qui c'erano tutti i gimp. Ho dieci colpi per il lanciarazzi. Tanto vale che li sfruttiamo. Eh no. Però devono venire fuori loro. Ok. Ok. Vieni, vieni, vieni. Bravo. Ancora qualcuno? Sì. Ancora qualcuno. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Non si preoccupi. Guardate qua. Che schifo. Tutte queste robe. Eh? Ci avevi provato? Ok. Sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto. Allora, di qua. Oh, oh. Non posso attaccare con i lanciarazzi qui. Devo cambiare arma. Ma scusami, eh. Quell'imp ti sta sparando addosso e pensi a inseguire me. Un po' di infighting non vuoi farlo? Vabbè. La genialità dei mostri. A volte supera il ridicolo, eh. Allora. Di qua. Non credo... Ah. Ciao, cacodemone. Credi che non ti vedo? C'è ancora qualcun altro, vero? Esatto. Però magari con calma. Intanto ho notato nei precedenti video, se vi interessa, che il Mancubus fa tantissimi danni in questa versione. Non credevo ne facesse così tanti. Allora. Ho completato i colpi del fucilio. Ho finito i colpi della mitragliatrice. Ho finito i colpi del bazooka. Devo usare per forza il Plasmagan? Davvero? Vabbè. Per carità, eh. A me va bene, perché il Plasmagan è una delle armi più affidabili in questo gioco, però... Mi dispiace solo sprecarla in questo modo. Ecco perché sto esplorando tutta la mappa ogni volta. Nel tentativo di trovare... Dei colpi, no? Ah. Attenzione. Ce la facciamo? No. Non ce la facciamo. Dovremmo aspettare. Perché quella confezione ci dà 100 colpi. E in pratica noi sprecheremmo... ...20 colpi del Plasmagan. Vabbè. Non vi preoccupate. Torneremo dopo. Anche perché lì c'è la Sosphir. Quindi... Eh, eh, eh. Non ci provare. Non ci provare. Calvo, calvo. Tanti Nightmare Spectre che ci sono qui. Ah, già, questa zona. Bisogna trovare la tuta antiradiazione. Altrimenti qua non ci possiamo andare. Allora... Di qua. Questa si apre. Di qua non si può andare. Giusto perché poi dobbiamo andare al centro. Allora. Non si vede niente qui dentro. Non si vede assolutamente nulla. Attenzione. E dai. Ok, qui c'è una clip ma... Posso andare avanti a caricatori? No. Aha. Ok. Di qua. Poi. Strano però. Che non ci siano tutte... Ok. Queste non sono più presse. Proviamo. No, non lo sono più. Non lo sono più? Assurdo. Ok. Questa apertà qui. Un razzo. Un lanciarazzi. Che vi ringrazio. Uh, dei colpi per il fucile. Ok. Ok. Abbiamo trovato qualcosa con cui andare avanti. Ok. Hm? Ho sentito qualcosa. Ah, salve. Mi ero dimenticato di lei. Parano Velma, mi dici perché sei sempre così incazzato con tutti? Cioè, io vengo a trovarti... Vengo a trovarti in ogni mappa e sei sempre così incazzato che mi vuoi far... Mi vuoi far morire ogni volta? Dai. E su. Ok. Adesso... Andiamo... Di qua... E poi di qua. Questa che fa? Dove porta? Non mi ricordo. Ah, porta qui. È vero. Qua servirebbe... Lo faccio? A proposito, il BFG si mette con il numero 8. Lo so che l'ho preso da un po' di episodi, ma non l'ho ancora detto. Lo faccio? Ma sì. Voilà. BFG 9000 in tutta la sua potenza. Dove è andato? Oh no, perché mi ha fatto andare... Vabbè, però si starà divertendo lì. Lasciamolo divertire. Ah, giusto. Abbiamo la chiave blu. No! Proprio adesso ti dovevi teletrasportare. Maledetto. Allora, qui c'è l'exit. E qui... C'è questa zona che, se ricordate, è una trappola. Ah. Già si è aperta? Proprio così. Ok. Basta, eh. Basta. Mi state un pochino troppo divertendo. Anche tu. Basta. Ecco. Armatura. Vita. Ok. Qua che c'è? Uh. Ci sono dei colpi. C'è tanta roba. Bene, bene, bene. Mi fa piacere, mi fa piacere. Adesso andiamocene via. Ah, già, giusto. Devo ancora andare nella zona centrale di mappa. Non si è aperto niente. Ok. E uno. Ah no, si è aperto qualcosa. Salve. Quanti baronovelle, eh. No. Io ho sbagliato. E su. Allora. Ok. Ok. Bene così. Bene così. Allora. Ci dovrebbe essere un modo per capire dove bisogna andare. Perché nella versione originale c'era. Cioè, c'era un diverso tipo di illuminazione. Ma qui non mi sembra. Mi sembra che sia tutto uguale. Forse un diverso tipo di texture. No. Ok. Qui c'è una testa. E non è. Qui. E non è. C'è una carcassa qui davanti. E qua. Non è. Non è davanti alla carcassa. Eh, vabbè. Ma ci sono due carcasse. Adesso come faccio? Allora. C'è un tizio impalato. Cavolo. Questa sì che è difficile da capire adesso. Allora. Il tizio impalato. A sinistra del tizio impalato. Ok. Ok. Abbiamo capito come fare a tornare indietro. Oh. Bene, bene, bene. Allora. Di qua. Eh. No. Dovrebbe esserci la... L'invincibilità da qualche parte. No. Questa... No. Che ho fatto? Ok. Allora. Torniamo proprio indietro. Torniamo proprio indietro. No. Stavo facendo di nuovo lo stesso errore. Torniamo proprio indietro. Vi va? Perché dobbiamo sbloccare tutte le porte in modo da aprire... Ora me la mappa è finita, se l'avete capito. Però... Ok. Questa si è aperta. Eccola qua. La zona dell'invincibilità. Mazziamo anche il baronavelli dentro. Ecco qua. Poi. Allora. Tizio è impalato a sinistra. Ok. Funziona. Corriamo indietro. Corriamo indietro di qua. Poi... Andiamo di qua. Poi andiamo di qua. Poi andiamo... Di qua. Sì. Si è aperta un'altra. Tutti i baronavelli. E' la sacra dei baronavelli, sta mappa. Dai. Perché vai sempre il difficoltoso per farti uccidere? Oh. Ok. Adesso. Tizio è impalato. No. Non è questo tizio è impalato perché lì c'è la testa. Allora, di qua. Dovrebbe essere. Poi ricordatemi. Allora. Ricordatemi. Devo farlo io da solo perché come fate a ricordarmi? Che devo andare di là. Allora. Di qua. Perdonate, adesso devo fare tutto il giro. Ah. Purtroppo questa mappa è così. Per sbloccare quelle zone segrete, dovete ogni volta entrare in teletrasporti diversi. Quindi bisogna adesso farsi. Questo lo siamo entrati qui e adesso dobbiamo entrare nell'altro teletrasporto. che dovrebbe essere questo. Questo. No. Vabbè. Senti. Chi se ne frega sarà un altro baronovelli dentro. Allora. Ricordiamoci solo. Ok. Ricordiamoci solo che uno. Corri, corri, corri tanto, corri tanto. E non calare di frame soprattutto. Corri tanto, corri tanto, corri tanto. Dov'era la porta? Dov'era la porta? Eccola qui. Usiamo il lanciarazzi qui. Ci mettiamo meno. Ok. Forse era questo il modo per aprire il portale? Sì. Era proprio questo. Perché ha 200 di vita? Avrò preso una soulsphere. Vabbè. Torniamo a prendere anche l'altra. E poi ce ne andiamo. Lo so ragazzi. Se te stufi quanto me. Se te stufi quanto me. Ma almeno togliamoci di mezzo anche quest'altra cosa. E poi ce ne andiamo. Dovrebbe essere qua. Ce n'erano anche dei colpi qui vicino. Quindi conveniva tornare indietro. Ok. Anoli Cathedral. Dovrebbe essere completata adesso. Arrivederci. Ecco. Ecco qua. 13 minuti e 45. Andiamo alla prossima. Questo dovrebbe essere Monterebus. Eh no. Non l'hanno tagliata. Sfortunatamente. Ragazzi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visualizzato il video. In wal pratica. Grazie a tutti.